Buongiorno al popolo di Intervento, mi chiamo Ventura Maurizio e abito a Savona e vi faccio questo video messaggio per tenervi un aiuto e un sostegno in questi giorni e adesso capirete il perché. Mi ha sottratto mia fede, mi ha ripulito di ogni mio avevo, mi ha detto che dovevo lasciare la casa dove vivo in affitto purtroppo il testato avevo, mi ha insultato e massacrato di botte per tre anni circa e io non ho mai reagito, mi ha calognato, insultato, umiliato e tolto ogni dignità umana, minacciato di morte puntandolo in coltello, se questo l'avesse fatto un uomo a quest'ora sarebbe in galera da un pezzo, invece questa cosa qua è stata fatta da una donna. È ora di dire basta, non siamo degli oggetti da usare, sfruttare, ridurre la fame per poi sentirsi dire fammi vedere come ti rialzi adesso. Basta, facciamoci sentire. Contro le leggi che non tengono conto che essere uomini non è un delitto e che i figli non sono degli oggetti o merci di scambio. Io domani per protesta mi incatenerò davanti a Tribunale di Savona per una protesta pacifica alle 8 di mattina, domani sarà il 5 settembre 2012. Io ringrazio quelli di internet che vorranno venire lì a portarmi della solidarietà, chi ci è passato o chi purtroppo ci dovrà passare capirà quello che io sto dicendo. Vi aspetto in numerosi. Grazie.